E noi ci occupiamo ora del Forum PA che si è aperto proprio oggi a Roma. Tema centrale, costruire una buona pubblica amministrazione per fare sviluppo eco e sostenibile. Sentiamo Francesco Di Mario. I primi risultati della linea più dura contro l'assenteismo nella pubblica amministrazione. Nel 2017 i giorni di malattia sono diminuiti del 10% con meno certificati medici, merito soprattutto del calo delle assenze brevi. In crescita i licenziamenti per troppe assenze dal posto di lavoro, gli statali sono 3,2 milioni, hanno in media più di 50 anni, sono per due terzi diplomati e fanno poca formazione. Lo stipendio medio è di 34.500 euro l'anno e costano allo Stato 160 miliardi di euro, 10 meno del 2009. La foto più recente del settore arriva dal Forum PA, ma quali riforme servono al mondo pubblico? Manca la cura, di riforma non manca nulla, non fateci alte leggi, per favore il governo nuovo non ci fare un'altra riforma targata a un altro ministro, non ci serve, ci serve attuare questa e curarla, accompagnarla piano piano. In attesa di una nuova app per dialogare con l'APA, si sperimenta il lavoro agile o smart, svolto ovunque, con smartphone e computer portatile. Mancano però le competenze digitali o digital skill. L'Italia ha una presenza del 29% di skill, diciamo, di alto livello, digitali, mentre invece la media europea al 37%. Allora, la nostra ricetta è investire anche in questo. Anche la scuola sfrutta la tecnologia, ad esempio per gestire la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro, con un messaggio chiaro agli studenti. Cercate di capire le necessità che il mondo produttivo ha e cercate di imparare e di studiare qualcosa rilevante.